Grazie Presidente, il contrabbando è già stato ricordato di sigarette costa ai contribuenti oltre 10 miliardi di euro all'anno contribuenti ai governi dell'Unione Europea in perdite di getto fiscale. Si ritiene che una sigaretta fumata su 10, una su 10, lo scorso anno sia arrivata dal mercato nero. È fondamentale dunque, concordo, adottare al più presto delle soluzioni a livello europeo ed internazionale in grado di contrastare questo fenomeno. Dico soluzioni europee e internazionali perché le rotte del contrabbando sono internazionali ed intercontinentali e il protocollo rappresenta sicuramente un passo nella giusta direzione. Va garantita la sicurezza innanzitutto e la salute dei cittadini perché il fumo è causa di patologie anche mortali. È un prodotto non controllato e ovviamente più pericoloso. Gli strumenti legislativi, lo vediamo attualmente a disposizione, non si sono dimostrati adeguati per contrastare in maniera efficace il fenomeno del commercio illegale. In particolare, quindi oltre ad azioni di comunicazione e di sensibilizzazione dei consumatori, il nostro interesse deve rivolgersi soprattutto alle nuove tecnologie che oggi sono in grado di offrirci soluzioni innovative di tracciabilità, così come è stato sollecitato e ricordato da tanti. È fondamentale dunque la tracciabilità che per i prodotti alimentari è già prevista per garantire la sicurezza alimentare, che deve essere adottata anche per i prodotti non alimentari, in particolare per quelli del tabacco, per certificarne la qualità e l'origine. Nella fattispecie per l'Italia, che è il primo Paese europeo per la produzione di tabacco, la tracciabilità è fondamentale. Fondamentale anche per non creare gravi disagi occupazionali in un comparto che impiega circa 50.000 addetti. Benvenga quindi il protocollo che all'articolo 8 prevede la tracciabilità. Le mie domande riguardano i tempi e se si pensa se avremo un sistema europeo di tracciabilità o se ci dovremmo ancora una volta accontentare di 28 sistemi nazionali con tutti i limiti del caso.